Sono già arrivato qui, sono arrivato qui, stiamo guardando, vediamo le teste Poi ci sono i sottotitoli, come mai ci sono i sottotitoli? Potrò togliere? Questa? Nooo, ok? Perdonate pure, beh anche noi dobbiamo ancora decidere dei dettagli, ci può andare qualche giorno per organizzare la cerimonia, certo ci sarà il zuppa, il gelato e poi... aspetta, lo vediamo qui? Assolutamente sì! Cosa ho messo? Cosa ho messo? Cosa ho messo? Avete chiesto la mia benedizione e la mia risposta è no e ora, con permesso. Maesta, se potessi chiarire con voi. No, non puoi e io ritengo che tu devi parlare. La festa è finita, le vede le voci. No, aspetta, aspetta a me, guarda. Elsa, si prende, non ti senti uomini. Cosa ha fatto Elsa? Cosa deve questa scena? Guardate, cosa succede? Cosa succede? Posso agitare un po' di fiume? Ho messo un po' di fiume per quello che fa la mamma. Stavo andando un po' di fattore. Vedete cosa metto? Cosa metto? Sì, la ricomiglio qui sistema autora. E' tutto a te. No. E mi restai qui, per governare Arte. Sul mio nome. Lascio il vice, mi lasso in carica. Sei già? Non ti fidi da l'aria. Non ti fai c'è la cosa. Mi aspettano, non ti permette l'arrazione. Non ti fai c'è la cosa. 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 Cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa mi sono portato? Cosa mi sono portato? Un buon accantone. Panettoncino. Sì. Sì, già. Guardatemi. Dov'è? Dov'è? non la perderà la mia volontà ho conservato ogni bugia nel mondo la colpa è solo mia così non va in settimana è una bella conterà adesso se vuoi dire che la è una vulnerable ma che fanno? la sera e la sera e la sera sorterò sai che so e non c'è cambierò ma non so qui non andrò più via e sono sola Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.